Ciao, sono Michele Plebani e sono qui per presentarvi la gamma di Top Hair Pony dedicati alla stiratura del pantalone in lavanderia e confezione. I pantaloni, specie dopo un processo di lavaggio d'acqua, si presentano fuori forma e con variazione delle loro dimensioni originali. Hanno le cuciture raggrinzite e il tessuto è molto stropicciato. Ripristinare le loro condizioni originali con solo un tavolo da stiro o una pressa è molto impegnativo e di conseguenza economicamente dispendioso. I Top Hair Pony rappresentano la perfetta soluzione a questi problemi perché velocizzano le operazioni di finitura di qualsiasi tipo di pantalone, lavati a secco o ad acqua e costituiscono l'elemento centrale di una efficiente linea di stiratura professionale. Gli aspetti su cui ci siamo più concentrati nello sviluppo dei nostri topper sono la qualità del vapore e l'efficienza del circuito di asciugamento con recupero di calore. Un vapore di buona qualità consente di evitare la formazione di condense, di ammorbidire uniformemente il tessuto predisponendolo all'azione tensionante del potente flusso di aria calda. Tutto ciò, unito al completo controllo del tensionamento del bacino e delle gambe, con sistema che si adatta in automatico ai vari tessuti e taglie, consente il raggiungimento di un'altissima qualità di finitura. L'utilizzo dei Top Hair Pony è semplicissimo e permette una produttività fino a 100 pezzi ora con un solo operatore non specializzato. Tutti i nostri topper sono dotati di microprocessore con programmi personalizzati per la massima flessibilità e semplicità di utilizzo. I modelli D e DL sono inoltre disponibili nella versione con caldaria incorporata. Per il cliente Pony questo significa riduzione dei consumi di energia e diminuzione delle dissipazioni di calore nell'ambiente di lavoro. Vediamo le caratteristiche e le funzioni dei Top Hair Pony utilizzati in tutto il mondo. Il modello A presenta un carrello di tensionamento pneumatico del bacino in profondità e pinze per il tensionamento delle gambe. Il modello D tensiona il bacino in profondità ed è dotato di carrello pneumatico per il tensionamento delle gambe. Il modello DL rappresenta un'ulteriore evoluzione della gamma dei Top Hair Pony. È l'unico con tensionamento del bacino laterale in aggiunta al tradizionale carrello pneumatico di tensionamento delle gambe. Il modello DP2 è dotato di una forma bacino riscaldata e vaporizzante che costituisce un perfetto piano d'appoggio per l'azione di due pale pressanti dedicate alla stiratura delle pants dei pantaloni classici. Il tensionamento del bacino è eseguito in profondità con carrello tendigambe pneumatico. Nei prossimi video vedremo nei dettagli l'utilizzo di tutti i modelli dei Top Hair Pony.